Una cena a sostegno delle vittime di violenza. Ad organizzarla sono state le donne della NAO, il sindacato dei medici dirigenti, che da tempo in Abruzzo promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione dedicate ai problemi e alle esigenze femminili. L'iniziativa si terrà sabato 26 gennaio nel ristorante Gilda a Teramo ed è stata organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza alla Fenice e con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. La NAO da qualche anno promuove delle iniziative di formazione al femminile, proprio per creare uno spazio aperto in cui siano possibili riflessioni, collaborazioni, emozioni, comunque tutte volte al rispetto degli obiettivi di universalità, di equità e di solidarietà delle cure, con un'attenzione particolare sia a chi riceve le cure, ai bisogni di chi riceve le cure, ma soprattutto alla dignità di chi eroga le cure, in particolare alle donne. Il Centro La Fenice e la Casa Rifugio Maia per le donne maltrattate sono strutture gestite direttamente dalla provincia di Teramo per ospitare e assistere le donne vittime di violenza. Si tratta di servizi pubblici, gratuiti e anonimi. Il Centro è inserito nella rete nazionale e locale antiviolenza. Uno degli obiettivi che mi sono prefissata in questa consigliatura è quello di potenziare i servizi antiviolenza. Proprio in quest'ottica abbiamo già ampliato il numero delle professioniste che lavorano presso i nostri centri e abbiamo in animo a breve di aprire uno sportello antiviolenza nella zona montana. È importante che cresca la consapevolezza nell'opinione pubblica che la violenza non è un destino per le donne, ma una condizione transitoria, perché dalla violenza si può uscire, si deve uscire. La donna deve sentire accanto a sé la presenza delle istituzioni. I fondi raccolti durante la cena saranno destinati all'attivazione di un numero verde per le donne in difficoltà, in aggiunta alle modalità di contatto con il Centro La Fenice già esistenti. Il Centro Antiviolenza La Fenice, sede di Teramo, quella di via Trento e Trieste 8, osserverà un ulteriore giorno di apertura già a partire da questa settimana e sarà il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Questo per garantire una presenza sul territorio per sei giorni su sette del Centro Antiviolenza La Fenice.